Oggi è chiaro a tutti che bisogna investire nelle competenze, in particolare nelle competenze digitali, è sempre più urgente raggiungere gli obiettivi fissati non solo dal piano nazionale di ripresa e resilienza ma anche a livello europeo e proprio a livello europeo si sta lavorando per raggiungere un obiettivo anche abizioso previsto dall'azione 9 del Digital Education Action Plan della Commissione europea che è la messa a punto di una certificazione unica per tutto il continente per le competenze europee. Quindi a livello di certificazione siamo ormai a un buon grado di maturità del panorama, il passo successivo al quale dobbiamo possiamo pensare è quello poi di una valutazione più complessiva dell'impatto che queste azioni hanno avuto sulla cultura digitale di tutti noi, della differenza che veramente hanno fatto in maniera che il possesso di competenze digitali non resti soltanto un titolo acquisito ma diventi un elemento in grado di fare la differenza nella vita di noi cittadini europei.